eccoci eccoci ragazzi vento vento sempre vento quest'anno una primavera veramente ventosissima anche quest'oggi 22 maggio 2021 ecco qua diciamo subito dove siamo così a scanso di equivoci siamo su tre confini ragazzi monte tre confini pare quote tra cui la 1881 questa sarà presumo la più alta anzi sicuramente la più alta eccoci qua un monte tre confini stamattina assolutamente in solitaria con partenza da scontrone ovvero sia da quella direzione da scontrone quindi attraverso il il colle della monna mi sono tenuto alto senza scendere poi alla bellissima valle alla bellissima valle di valle fredda perché poi mi sarebbe toccato risalire su e avrei accumulato troppo di slivello inutile già per arrivare fin qui sono più di 950 metri di slivello quindi ho voluto evitare un ulteriore 2 300 metri di slivello ma fatto sta che la bellissima valle fredda il tratto dal valico della monna verso la remogna e poi verso il tre confini oggi è stato veramente un qualcosa di eccezionale ragazzi eccezionale eccoci arrivati allora sul monte tre confini da qui si apre la veduta verso le gravare in fondo vediamo le toppe del tesoro ma quello che più ci aggrada vedere è il meraviglioso monte greco ancora innevato in fondo andiamo verso la un'altra quota del tre confini per poi dirigerci verso quello che secondo me il balcone più bello quello che affaccia sulla sul pianoro di valle fredda della remogna eccoci qua allora cominciamo a vedere in fondo il massiccio della maiella ormai quasi sgombro di neve potrei dire che c'è meno neve sulla maiella che sul greco per non parlare poi ancora delle mine art della in fondo ecco qui un altro cippo di vetta e cominciamo a vedere bene il sottostante il pianore di valle fredda per l'arrivo 1 ore 29 minuti 0 secondi proseguiamo proseguiamo e andiamoci ad affacciare tanto di naricatore parlo mi chiede compagnia la macchina l'unica compagnia che qua sono state le uniche due cose che riescono a starmi dietro però sì l'abbiamo musica cos'è detto 1 ore 49 minuti e 5 secondi tempo totale 1 ore 54 minuti e 57 secondi siamo quasi arrivati intanto guardate un po' che polmone freddo che polmone verde è quello di valle fredda mi semplice la lingua niente di più facile eccoci allora bellissimi ragazzi e ragazze vi ho portato su monte tra i confini stamattina quel che mi piace di più di questa vetta me la faccio che torna sintonare di valle fredda perché ci fa vedere benissimo il lato B dei nostri dei nostri aranzecchi e spinolatori guardate che meraviglia guardate un po' che meraviglia qua mi rivolgo a tutti i castellani che sono abituati a vivere queste grosse montagne dall'altro lato da quello di Castelli Sanno guardate qui che bellezza eccoci qua il pianoro di valle fredda della Remogna eccoci qua ragazzi allora un 22 maggio un po' ventoso ma assolutamente godibile si vede molto bene anche lì in fondo il miletto ma quello che mi piace vedere sempre di più sono le nostre mainarde sempre vento e chissà cosa vi arriva ok ragazzi anche quest'oggi un salutone a tutti da Corradino un abbraccio a tutti io vi lascio mi dedico alla mia meraviglia ciao belli ciao